Soppe cassetta, abbiamo, come dire, rivitalizzato la piazza di Ospedalicchio, no? Mi pare che avete fatto una buona iniziativa quella di mettere tavolini davanti a un esercizio commerciale, no? Come sta andando qui a Ospedalicchio? E mi ha detto poco fa fuori onda che anche il prete è stato contento di queste cose, vero? Sì, proprio vero. Ho fatto i complimenti perché ha detto che ha valorizzato anche la chiesa mettendo una struttura come questa. Purtroppo abbiamo iniziato a intraprezzo questa iniziativa tramite questo maledetto virus che oggi si è colpito, però comunque sia una struttura che rimarrà per qualche tempo perché tutto sommato è un qualcosa dove uno può fare la colazione sia dentro che fuori e perciò è un'immagine bella sia per l'attività all'Uni e all'Uni e anche per la nostra piazza che in qualche modo abbiamo cercato di fare un qualcosa di simpatico per valorizzare la nostra piazza che merita veramente un qualcosa forse di più positivo.